Ciao a tutti sono Crysis e oggi siamo tornati su Minecraft Skyrim Edition Ricapitoliamo cosa è successo negli episodi scorsi Allora noi intanto come si faceva? Non mi ricordo Ok, siamo questo Dovak in armatura daedrica ormai Avevamo potenziato un po' le nostre armature e armi Abbiamo cercato di prendere più diamanti per prendere almeno la piccozza per prendere le ossidiane E almeno una spada per difenderci Abbiamo costruito questo portale, siamo a Dragon's Reach, a Wytran Riprodotta nei minimi dettagli, è bellissima Siamo andati nel sottomondo per raccogliere queste bacchette Che ci serviranno per poi produrre gli occhi e per finire il gioco una volta per tutte Però adesso ci manca le perle A questo punto dobbiamo far calare la notte Bellissima Wytran, wow È uguale, è uguale, spiccicata, sputata Dicevo dovevo far calare la notte per far arrivare gli Enderman Sconfiggerli e sperare che ci lasciano almeno una perla Almeno una Perché voglio usare una tattica Prendere una perla Farci un occhio Con le bacchette, poi ci farò tutte le ose craftabili E usando salvataggio e carica partita di continuo Perché altrimenti le perderei questi occhi Perché ne servirebbero un'infinità Se uno dovesse cercare la fortezza a caso Ne userò soltanto uno E finché non mi porta alla fortezza Carico e salvo la palestra Allora è una palla ma tanto io salterò il video Qui intanto Oh no mia Non mi ricordo Come si corre? Si corre così Esco da Wytran E vado un po' in una vasco perta Insomma So che gli Enderman Stanno in luoghi abbastanza ampi Per questo insomma Lo troviamo sempre nei deserti O cose così Cos'era? Una pecora Ah è un villano Vabbè Sbaglio sempre Sbaglio a correre Allora Da questa parte mi ricordo c'era anche il mio dungeon Che avevo fatto all'inizio E vabbè Ci sarà molti altri E vabbè vanno anche lassù Piove all'improvviso a caso E comunque una volta trovata la fortezza Sotto ci stanno molti Enderman Quindi magari è più facile sconfiggerli lì Trovarli più facilmente Che sono più comuni Prendere più perle possibile là E a quel punto Almeno Quante si è? 12 occhi Sarà più facile farli Allora Se vado qua giù muoio Io muoio subito Ci voglio prendere Ecco Ah troppo ripido Oh forse di qua Forse di qua Entriamo Perché magari Ci serve un po' di carbone Perché ho notato Ci sono rimaste soltanto 29 torce Non è tanto eh Allora prendiamoci un po' di carbone Facciamoci un po' di Quanto bastoni mi sembra ce l'abbiamo Abbiamo abbastanza Per quello non c'è problema Ok allora Ho perso la crafting table Devo rifarla Quindi mi serve Piante Accidente a me Allora Allora si Tatatà Che meno Ok finalmente Così almeno possiamo fare Questa roba qui Mi servono le polvoche di vampe Se non sbaglio Ok lo mettiamo qua E No devi distruggerlo Come si faceva Con questo Ok Pa 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 Le faccio tutte Tutto il resto poi dopo Sperando che davvero ci siano tutti gli enderman sotto la cortezza Almeno l'ultima volta ho giocato era così Nella cortezza era pieno Cioè Della zona dove più che altro c'era il portale Era pieno Era pieno Vediamo se facciamo notte Allora Notte ci siamo Sto tramontando il sole E c'è uno zombie adesso Ma nemmeno c'è il tempo Ok Ma sta accettando anche alle spalle Appunto esperienze le voglio Anche se faccio schifo però magari Ho bisogno di un enderman Potremmo stare anche una vita a cercarlo Onestamente Non c'è un modo preciso per trovarlo Almeno che io conosca Questa questione di culo Destronzo laggiù non ci vengo Perché tanto mi ammazzi Io ci sono Se vado lì nel mezzo Entro e non giro di schiaffi Che non me ne torno più a casa Qua Quattro Scheletri Via 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 Hanno ammazzato il lupo Hanno ammazzato il lupo Maledetti Allora Signori Questi sono gli enderman C'è incredibile davvero Ne ho già trovati due Che pensavo fossero zombie ovviamente Invece sono Enderman Da lontano Sembravo zombie Io mi aspettavo differenti Non l'avevo mai vista Non me lo ricordavo Erano così E' anche un memoria Guardalo eh Un'altra perla Siamo a tre signore Pensavo C'è Mamma mia Basta Sei morto Fai in casino Quando muoio Allora Sarà meglio Tanto mangiare Un po' Perché stiamo morendo Quanta carne abbiamo? Abbiamo cinque polli Cinque Eh vabbè Un po' di roba Ce l'abbiamo ancora Ancora da cuoce Ma ce l'abbiamo Ok Uno due tre Ora me la riprendo Lo spacco negli occhi Ma me la riprendo Salvataggio acuto della partita Immediatamente Immediatamente Adesso il gioco Consiste Nel lanciare questi Nel lanciare questi Questi occhi Ecco Questo è tornato indietro Però Sembra che vada In questa direzione Quindi Perdi qua Io per il momento Salto tutto Andiamo un po' Oddio no 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 Fermo fermo Madonna ragazzi Che palle Sono ovunque Sta tornando giorno Vi la vedi da cazzo Affanculo Iac Allora Proviamo un'altra volta Si sta andando da questa parte Finchè me lo ridava bene Io faccio così In questo modo Finchè non trovo la fortezza Adesso salto il video Salto tutto Salvo partita Faccio tutto Esploso Madonna ragazzi Saliamo qua Oh 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 No non mi esplode Non mi esplode Allora Fermi Ha cambiato direzione Ha cambiato direzione Allora Sta andando Sta andando sottoterra qua Non mi esplodere ora Dammi Allora Stavo andando giù Di qua Stavo andando giù Stavo andando giù Stavo andando giù In basso Diretto Trovo Un dungeon Mi porterà Finalmente alla fortezza In effetti qualcosa c'è Ha sentito uno zombie Non so quanto devo andare in fondo Friamo a scappare un po' Materale Onestamente Andando ancora più sotto Oh 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 Fermi Fermi tutti Fermi tutti Ci siamo eh Salvataggio Aspetta 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 Fermi Salvataggio Devo usare quest'occhio adesso Mi risale Porca droga Andiamo ad andare più su Vabbè Antoria Ricollò la partita Va bene Forse abbiamo trovato la fortezza La fortezza Sotto Non so come si chiama Non me lo ricordo Andremo a sconfiggere Lander Alduin Spero Presto Per oggi Concludo Qua l'episodio Se vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Mi sta uscendo una cuffia Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo nel prossimo gameplay Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti